Questi accessori per il nuovissimo Galaxy S24 sono semplicemente fantastici. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere le migliori cover e i migliori, cari amici, accessori per il nuovissimo Galaxy S24. Vi parlerò di quello compatto perché sembra un po' il più distrattato, infatti tutti quanti si incentrano sul modello Ultra che oltre ad essere un bel padellone non è che sia poi alla portata di tutti visto che costa quanto uno stipendio medio. Se volete comunque procedere all'acquisto, cari amici, sotto in descrizione trovate il mio codice sconto esclusivo da utilizzare sul sito ufficiale che vi dà diritto a tanti vantaggi oltre che a decurtare il prezzo di ben 100 euro. Sì, avete capito bene, 100 euro. Ma prima, cari amici, di andare a vedere tutti questi accessori per il nuovissimo Galaxy S24, solitamente supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni. E seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto. Se avete bisogno di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio, scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale supporto Telegram, aiuto veramente tutti i link. Li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale WhatsApp dove ci sono un sacco di chicche interessanti. Ma cari amici, bandalo e ciance, andiamo a vedere più da vicino questi prodotti fantastici. Partiamo subito con il botto, mi dà che è un'azienda che a me piace davvero tanto e sono tre gli accessori che vi voglio portare e che, cari amici, hanno una vera utilità per il nostro smartphone. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è questo anello che si va a differire rispetto agli altri che trovate in commercio in quanto aggiunge solo 27 grammi. Infatti Kevlar è zinco, compatibile MagSafe, quindi può essere utilizzato anche con il nostro iPhone e non va incollato ma semplicemente poggiato. Quindi è facile anche da rimuovere e ci darà una presa migliore, soprattutto se usiamo lo smartphone sul letto, evitando che ci cada in faccia. È disponibile in tre colori e per il nostro Galaxy S24 non può essere direttamente messo sulla scocca, bensì bisogna andare a utilizzare anche la custodia dello stesso brand. Dicevamo disponibile in tre colori e un qualcosa di semplicemente fantastico, ora ve lo mostro in abbinata con questa cover che dire che è stupenda e estremamente riduttivo. Infatti parliamo di un prodotto sottile, parliamo di 1.14 o 1.27, uno spessore variabile, che va da 18.9 grammi a 25.9 grammi. È realizzata in fibra aramidica, ampiamente utilizzata nelle applicazioni aerospaziali militari, non è conduttiva ed è 5 volte più resistente dell'acciaio. Ora andiamo a inserire il nostro Galaxy S24, come potete vedere l'accoppiamento avviene in maniera semplice e veloce ed è progettata per migliorare la presa e il comfort. Grazie all'esclusiva tecnologia 3D Grip è liscia ma è antiscivolo, tenendola in mano si capisce che stiamo parlando di un prodotto premium. La custodia aderisce perfettamente, come potete vedere, a delle aperture sia sui lati che nella parte superiore che nella parte inferiore. L'anello rialzato in metallo poi garantisce una protezione aggiuntiva per quanto riguarda gli obiettivi della nostra fotocamera. Abbiamo poi delle strisce metalliche integrate, quindi piena compatibilità con gli accessori MakeSafe di Apple. Infatti come potete vedere il nostro anello si va ad ancorare per avere una presa semplicemente fantastica. Un prodotto premium che non costa poco ma che rende ancora di più esclusivo il nostro smartphone. Disponibile in tre colorazioni ma questa è la mia preferita. Vi voglio mostrare anche questo produttino di Pitaka anche se non è destinato al Galaxy S23, bensì ai modelli Plus o Ultra. E' compatibile MakeSafe, ultra slim, dal design estremamente minimale. Ci permette di inserire due carte, ad esempio la carta di credito e la patente, la carta d'entità. O anche il nostro bigliettino da visita smart, vi posso garantire che questo prodotto è semplicemente fantastico, liberandoci dall'ingombro del portafogli. Dicevamo però che su questo modello compatto la decisione è perfetta, però va a coprire l'ultima fotocamera. Quindi un prodotto più adatto per l'S24 Ultra o l'S24 Plus ma anche con questa accoppiata. Potete vedere che la duttività è davvero fantastica. Può essere utilizzato anche con gli iPhone, davvero un'ottima scelta. Un'altra azienda che mi piace moltissimo e che mi sento di consigliarvi è sicuramente Banks. Di cui vedremo un kit di protezione completo composto da cover, protezione per quanto concerne il vetro e per le fotocamere. Partiamo dalla cover in Kevalar. Sì avete capito bene il materiale con il quale vengono costruiti i giubbini antiproiettile. Infatti a parità di densità è ben 5 volte più resistente dell'acciaio. Quindi 2.5 volte più resistente rispetto al titanio. Certificato da DuPont, un marchio rinomato negli Stati Uniti, ovviamente super resistente ma senza che gli amici essere enorme. Come potete vedere non è molto spessa ed è super leggera ma anche super resistente. Piene compatibilità con gli accessori Make Safe come potete vedere direttamente anche da qui. Adoro il telaio in alluminio con i tasti che sono in lega. La trama in carbonio a me fa semplicemente impazzire. Abbiamo pure dei cuscinetti qui all'interno per andare ad ammortizzare un'eventuale caduta. Ora vi mostro anche come calza sul nostro S24. Beh direi semplicemente perfetto. Un prodotto che è anch'esso premium. Qua abbiamo il rialzo per andare a proteggere il nostro schermo. Un rialzo che abbiamo anche qui con una struttura in metallo. Uno dei miei prodotti preferiti. Costo tra i 35 e i 40 euro. Sempre di Banks vogliamo farvi vedere altri due accessori. Uno è il vetro temperato. Qual è la peculiarità di questo vetro temperato? Beh innanzitutto ha un frame che ci permetterà di andare a installare in maniera estremamente semplice il nostro vetro temperato. Qua abbiamo anche le istruzioni e tutto quanto il necessario per andare a installare il nostro vetro. Vetro cari amici che non ha nessun tipo di problematiche con l'impronta digitale a ultrasuoni. Quando acquistate un vetro temperato per la serie Galaxy è un qualcosa che dovete sempre tenere a mente. In quanto spesso i protettori economici che generano poi delle problematiche con sensore di impronte digitali. Problematiche con questo prodotto non c'è. Io l'ho utilizzato anche per il Galaxy S23 senza alcun tipo di problema. Ovviamente va sempre attivata l'opzione dal nostro smartphone per aumentare la sensibilità. Qui abbiamo poi tutto quanto il kit per l'installazione. Quindi per rimuovere la polvere sia grande che più piccolo è un panno bagnato e un altro asciutto. La cosa fantastica poi che sono numerati ci dice di utilizzare prima questo poi questo pannetto. Poi questo grande e infine questi più piccoli. Davvero tutto molto semplice e professionale. Un prodotto cari amici che è davvero top. Ora vi mostro pure come dobbiamo andare a utilizzare. Prendiamo la nostra cornice. Qua abbiamo il top e qui la parte è piccola. Andiamo a inserire il nostro telefono in questa cornice. E qui dopo aver pulito ovviamente il display andiamo a inserire il vetro temperato. Davvero molto ma molto semplice. Andando ad installare avremo un vetro temperato antiriflesso che non trattiene le impronte. Che non diminuisce ovviamente la sensibilità del touch. E ho visto che volendo c'è anche il modello privacy che però a mio avviso peggiora la visibilità sotto il sole. Perché attenua troppo la luminosità. Ma per gli amanti della privacy potrebbe essere una buona opzione. Molto comodo poi è il secondo kit. Spesso cari amici andiamo a trascurare le fotocamere. Qui abbiamo appunto un kit che come potete vedere è anch'esso semplice da installare. Che ci permetterà di andare a proteggere le nostre telecamere. Eventualmente da urti o anche da contatti accidentali con superfici che potrebbero rigare. Quindi minare la qualità delle nostre fotocamere. Ovviamente è un kit che non va a impattare in alcun modo sulla qualità delle foto create. Ma le andrà semplicemente a proteggere. Un qualcosa che mi avviso. Bisogna tenere in considerazione. Trovate tutti quanti i link in descrizione. Questo kit per me è davvero top. Altro prodotto che avete già visto nel mio video dove parlavo delle migliori cover per l'iPhone 15 Pro è Sarpy. Sarpy fa prodotti di qualità con costi davvero molto bassi. La cover per il Galaxy S24 è realizzata con silicone materiale morbido e antiscivolo e offre un'eccellente presa in mano. Inoltre cari amici è anti impronta. Come potete vedere all'interno abbiamo la microfibra che eviterà che il nostro smartphone si vada a rigare. Andiamo a inserirlo calza in maniera fantastica e abbiamo i bordi rialzati per proteggere lo schermo e anche per quanto concerne la fotocamera e il flash a led. Facile da rimuovere come potete vedere impiego davvero poco per farlo e anche facile da pulire. Per rimuovere ad esempio polvere o sporcizia basterà uno straccio umido. La sensazione tenendola in mano è davvero gradevole. È disponibile in vari colori. Io l'ho presa nera ma volendo cari amici ci si può sbizzarrire. Questo è lo stesso identico prodotto ma ha una colorazione diversa e anche qua potete vedere che l'inserimento è davvero semplice. Notate il bordino che lo andrà a salvare quando poggiamo il nostro dispositivo magari con il display rivolto verso il basso. Costo solo 16,99 alias una bazzecola un prodotto a tenere in considerazione se non si vuole avere fondamentalmente esclusività ma praticità e protezione. All'interno della confezione poi cari amici sono presenti anche dei tatuaggi che mi ricordano un po' l'infanzia. Un qualcosa che non ti aspetti di trovare in una cover ma che dà un sorriso che fa sempre bene. Il cavo in donazione del Galaxy S24 è davvero corto. Cari amici ora ve lo mostro è anche abbastanza fino. Devo essere sincero è abbastanza incline a rompersi. Io utilizzo questo dal mio Galaxy S20 non ho mai avuto alcun tipo di problema. Ma se si volesse qualcosa di migliore magari anticroviglio più lungo e multicolore beh questo prodotto di puro è veramente fantastico. Infatti è più lungo come dicevamo è da un metro e mezzo poi la sensazione tenendolo in mano è davvero fantastico. Questo è bianco ma ci sono di tutti i colori verde arancione e rosa quindi ci si può sbizzarrire anche per dare un tocco di colore a un telefono che forse nella colorazione black è un po' troppo serioso. Su porta la ricarica rapida può essere utilizzato per ricaricare tutti i nostri dispositivi con la porta di tipo C anche il nostro iPhone eventualmente. Costo 19,95€ per un cavo io vado a utilizzare da più di un anno il mio è di colore verde cari amici che è un colore che mi piace davvero tanto e che mi sento di consigliarvi. Se lo si usa spesso per i trasferimenti dati c'è da considerare che è USB 2.0 quindi non la scelta più veloce però bisogna apprezzare che l'azienda vada a scrivere sulla confezione la velocità del cavo cosa che non fa quasi nessuno. Se si vuole una custodia più classica magari spendendo una decina di euro i prodotti e l'ago sono veramente un'ottima alternativa anche perché offrono prodotti molto sbarazzini e colorati. Quella trasparente cari amici che purtroppo a me è arrivata per l'S24 Ultra ve la mostro ugualmente ma non posso mostrarvi come calza è una custodia ibrida che fondamentalmente è la mia scelta preferita. Qui abbiamo degli adesivi molto carini dicevamo è ibrida infatti abbiamo sia il policarbonato che TPU una miscela perfetta che offre protezioni da cadute sporco polvere e olio abbiamo un bordino rialzato di 1.7 mm sia lato display che sia lato fotocamere che va a proteggere il tutto da graffi. Quando ad esempio proteggiamo il nostro smartphone ovviamente nessuna problematica con la ricarica wireless. Altro prodotto di casa e lago costa una decina di euro sono le covere in silicone ipoallergenico abbiamo sempre l'inconfondibile adesivo che sono resistenti ai graffi facili da pulire e non si vanno a scolrire col tempo. Anche qui troviamo la microfibra all'interno per evitare appunto che il nostro smartphone si vada a rigare cosa molto caratteristica poi che abbiamo non so se si vede ora vi mostro l'altra colorazione magari più visibile stampato anche le coordinate dove viene prodotta e come potete notare calza davvero alla perfezione. In più il bordino nella parte superiore è maggiore rispetto alla concorrenza infatti parliamo di 2.5 mm per la parte anteriore e di 2 mm per la parte posteriore. Abbiamo piena scelta per quanto concerne le colorazioni questa è un classico nero ma qui abbiamo ad esempio un decisamente più sbarazzino fuori dalle righe verde molto particolare. Come vi dicevo qui ci sono stampate le coordinate dove viene costruita questa custodia e l'accoppiamento secondo me è davvero fantastico ricordiamoci che il costo di queste custodie è davvero irrisorio. Questa colorazione è semplicemente fantastica tutti quanti i link per l'acquisto ve li lascio sotto in descrizione. Come ormai di consuetudine da qualche anno a questa parte non c'è notazione del caricabatterie oltre alla scelta di quella originale da 25 watt per S24 standard che devo essere sincero non costa nemmeno tanto si parla di 10 quindi c'ero su Amazon a seconda delle promo o da 45 watt per i modelli plus e ultra. Questo che vi sto mostrando possiamo optare magari per prendere un altro dispositivo più performante che ci permetta di caricare più dispositivi. Beh questo Basius fa veramente al caso nostro stiamo parlando del GAN3 da 100 watt che permetterà di ricaricare ben 4 dispositivi contemporaneamente attraverso due porte USB di tipo A e due porte USB di tipo C. Allora mettiamo subito in chiaro una cosa con questo dispositivo cari amici possiamo caricare anche il nostro notebook. Andiamo a rimuovere la pellicola e qua possiamo vedere le due porte USB di tipo A e le due porte USB di tipo C. Abbiamo piena compatibilità con Power Delivery 3.0, Qualcomm Charge 4 e ad esempio possiamo usare al massimo della velocità le due porte USB di tipo C per caricare contemporaneamente il nostro notebook. a 65 watt e il nostro smartphone a 30 watt. Se si usano le quattro porte in contemporanea avremo 65 watt sulla prima porta USB tipo C, 20 sulla seconda e sulle due USB tipo A e 15 watt totali se si usano entrambe o 18 watt se ne andiamo a utilizzare una sola. Soluzione veramente molto comoda ovviamente è una soluzione da tavolo ed è compatta anche perché oltre al nostro smartphone potremmo andare a ricaricare anche altri dispositivi come cuffie o notebook. Piena compatibilità con i prodotti Apple un qualcosa che andrò a utilizzare sulla mia scrivania perché è semplicemente fantastico e molto comodo in più come potete vedere ha delle dimensioni davvero molto ma molto compatte. Tutti i link per l'acquisto al solito ve li lascio sotto in descrizione. Bene cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo prestissimo con la recensione completa di questo nuovissimo Galaxy S24 dove vi mostrerò anche come abilitare la registrazione nativa delle chiamate. Mi raccomando attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e commentate se volete vedere un prodotto in particolare qui sul canale. Un saluto dal mastro di YouTube che va fortissimo anche su TikTok. Ciao! 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 Ciao!